Occhio alla progressione. C'è spazio, attenzione. Il tuffo nel portiere che sventa il tentativo dell'avversario. Si mette col corpo tra palla e difensore. Attenzione perché c'è il palla. Prova a trovare lo spazio. 1-0, non hanno perso tempo. Luchman. Si libera la grande. Hanno trovato il pareggio a poco dalla fine. La fine.